Autonomia di 500 km Quali sono le principali caratteristiche di ID4? La vettura è offerta con due differenti pacchi di batteria rispettivamente 52 e 77 kW che permettono di avere un'autonomia fino a 520 km attualmente leader nel segmento di mercato Grazie al nuovo pianale MAB sviluppato da Volkswagen per le vetture esclusivamente elettriche di ID3 e ID4 la vettura ha la trazione posteriore e il motore posizionato nella parte posteriore Questo permette agli appassionati alla guida di avere una guida particolarmente dinamica e divertente grazie anche a una potenza considerevole di ben 204 CV La vettura è disponibile in quattro livelli di equipaggiamento atti a soddisfare tutte le esigenze di comfort e personalizzazione che i clienti ci possono richiedere Tutte le vetture, tutti gli allestimenti comunque sono corredati di un'ampia dotazione di serie a partire dagli ADAS di ultima generazione, cioè i sistemi di sicurezza alla guida in cui Volkswagen è sempre stata molto sensibile per la sicurezza dei propri clienti A frenare spesso le persone nell'acquisto di un'auto full electric sono i timori legati ai temi e alle modalità di ricarica soprattutto per i lunghi viaggi Come Volkswagen risponde a questi dubbi? Indubbiamente i timori legati alla ricarica dell'auto sono tuttora oggi il freno principale per i nuovi clienti all'acquisto di una vettura elettrica Volkswagen non ha lasciato nulla al caso indubbiamente ha creato quello che Volkswagen chiama l'ecosistema In che cosa consiste l'ecosistema? Per tramite di questa tessera che si chiama WeCharge è una tessera che oggi permette la possibilità di caricare le proprie vetture elettriche ben già in 150.000 stazioni dislocate in tutta Europa 7.500 delle quali già oggi disponibili in Italia Sono sistemi di ricarica che crescono di mese in mese e che sempre più faranno parte del nostro prossimo futuro legato all'automobile Come l'app WeConnect modifica il rapporto tra automobilista e vettura? Volkswagen ha creato in ultimo anche la nuova applicazione che si chiama WeConnect ID che sarà uno strumento fondamentale per poter sfruttare a pieno le potenzialità che offre la vettura Quali sono le modalità di acquisto della nuova ID.4? Per entrare in possesso di nuova Volkswagen ID.4 Volkswagen ha predisposto, oltre ai metodi tradizionali due forme di acquisto particolari dedicate che si chiamano Progetto Valore Volkswagen e il noleggio a lungo termine disponibile sia per privati che per aziende Non ci resta che aspettarvi ed invitarvi presso la concessionaria Martignoni presso i nostri showroom di Gallarate, di San Vittore Olona e di Vergiate dove i nostri consulenti alle vendite sono a disposizione per mostrarvi la vettura e soprattutto per offrirvi un test drive di guida che non potrà che essere indimenticabile Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti